Le relazioni che hai, il lavoro che fai, i risultati che ottieni e tutto ciò che nella vita otterrai ha molto a che vedere con ciò che tu credi di meritare. Pertanto se in quanto essere umano credessi di valere, non accetteresti che un compagno, un amico, un guru, un politico si prenda a gioco di te. Mentre se credessi di non valere, accetteresti di essere sottomessa, umiliata, manipolata. Questo è il motivo per cui dovremmo occuparci della nostra crescita personale, lavorare per superare i nostri limiti, smantellare credenze limitanti, avere al nostro fianco persone capaci di motivarci a fare del nostro meglio e soprattutto eliminare dalla nostra vita tutti coloro che vogliono manipolarci e impedirci di splendere. Per darti un'idea di come una credenza, quindi di ciò che noi crediamo, possa entrare nella nostra vita ed impedirci di splendere, ho pensato di raccontarti una breve storia scritta da Jorge Bucay. La storia dell'elefante incatenato Quando ero piccolo adoravo il circo. Ero attratto in particolar modo dall'elefante che, come scoprì in seguito, era l'animale preferito di tanti e tanti altri bambini. E durante lo spettacolo quest'animale faceva sfoggio di un peso, dimostrazione di forza, qualcosa fuori dal comune. Ma dopo il suo numero, e fino ad un momento prima di entrare in scena, l'elefante era sempre legato ad un paletto con una catena. Quindi un piccolo paletto conficcato al suolo che legava con una catena la sua zampa. Eppure guardandolo dicevo, ma questo paletto è minuscolo. Ok, è un pezzettino di legno piantato nel terreno, per qualche centimetro. E se anche la catena potrebbe essere un po' più grande, mi sembrava ovvio che un animale come l'elefante potesse liberarsi in qualsiasi momento. Quindi la domanda era, cosa lo tiene legato? E chiese un po' in giro, chiese un po' in giro, a tutte le persone, cercando di avere una risposta, qualcuno che mi dicesse e mi risolvesse questo problema. E qualcuno mi disse, guarda, l'elefante non scappa perché è un elefante ammaestrato. Ed allora mi domandavo, ok, ma se è ammaestrato perché lo incatenano? E a questa domanda non ho mai ricevuto risposta. Con il passato degli anni mi sono dimenticato di questo mistero, il mistero dell'elefante. E qualche anno fa ho scoperto che qualcuno era stato così saggio da trovare la risposta. L'elefante non scappa perché è stato legato a quel paletto, con quella catena, fin da quanto era molto, molto, molto piccolo. Così io, chiusi gli occhi, mi immaginai quell'elefantino indifeso, appena nato, legato ad un paletto. Che provava a scappare, a tirare, a far forza. E cercava di liberarsi. Ma nonostante tutti i tentativi, non ci riusciva perché quel paletto, per quel periodo della sua vita, era troppo saldo, troppo forte, troppo resistente per lui. E quindi dopo svariati tentativi, un giorno aveva rinunciato. Aveva accettato di essere impotente, di non poter far niente per risolvere quel, per scappare, per liberarsi da quel paletto. L'elefante è enorme, è possente, questi elefanti che vedevamo nel circo quando eravamo bambini. E non scappava, semplicemente perché credeva, credeva di non poterlo fare. Di non poterlo fare, perché per l'esperienza che ha vissuto quando era piccolo, ha avuto la dimostrazione che non poteva scappare. E sulla sua pelle si era impresso il ricordo dell'impotenza sperimentata e non è più tornato a provarci. Non si è mai più messo alla prova. Non ha mai più messo alla prova la sua forza. Mai più. Questo per dirvi che noi siamo ciò che crediamo. E questo è il motivo per cui noi dovremmo costantemente provare a superare i nostri limiti. A migliorarci. E non dare niente per scontato. Se tu ci credi, tu puoi. E non dare niente per scontato.